Grazie, Presidente. Ministro, Sottosegretario. L'atto che discutiamo oggi riguarda la conversione del Decreto numero 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva 2008-50-CE. La prima riflessione, quindi, a cui vorrei ora far riferimento è quella riguardante i presupposti per il potere di decretazione da parte del Governo. Sappiamo tutti che il primo e unico presupposto affinché appunto il Governo possa intervenire con misure cosiddette urgenti è quella della necessità. Vorrei capire quindi ora come si fa a dire che è necessario ed urgente intervenire per il recepimento nel nostro ordinamento di una misura del 2008. Non penso quindi di fare dietrologia o di fare della facile ironia politica se dico che in realtà questo provvedimento serve solo ed esclusivamente a soddisfare la coscienza di alcune delle anime di questa maggioranza. Perché se fosse veramente un provvedimento urgente, conterrebbe delle misure tampone idonee appunto a fronteggiare questa emergenza, conterrebbe delle soluzioni concrete, conterrebbe quanto necessario per far sì che appunto l'emergenza si potesse superare. E invece non c'è nulla di tutto questo. Si parla di sperimentazione, si parla di misure appunto finalizzate a valutare l'impatto di interventi che sostanzialmente hanno decisamente poco, ma manca del tutto non solo una misura appunto tampone per l'emergenza, ma manca anche una programmazione di medio e lungo termine che avrebbe giustificato il termine di sperimentazione, perché qui di programmazione del medio e del lungo periodo non c'è assolutamente nulla. Prima però di entrare nel dettaglio del provvedimento vorrei iniziare con uno degli ultimi articoli, l'articolo 7. Sostanzialmente questo articolo, che leggo nel titolo, riguarda le misure per l'incentivazione dei prodotti sfusi o alla spina. Era stato inizialmente previsto per le attività di vicinato e per le attività medie. Esteso poi alle grandi attività, ma questo, anche se criticato da alcuni colleghi, a mio avviso è un provvedimento che avrebbe potuto avere un significato, perché se l'obiettivo è quello di intervenire a favore del clima, è evidente che le grandi attività, le grandi imprese, hanno la possibilità di farlo in maniera più incisiva rispetto alle medie piccole. Quindi questa parte potrei anche capirla. Ma vorrei ora comprendere perché, quando si è tentato di estendere questa misura anche a vantaggio dei prodotti agricoli, la maggioranza si è espressa contro. Che cosa avete contro l'agricoltura? Ricordo la discussione di pochi giorni fa riguardante il trasferimento delle competenze del turismo dall'agricoltura alle attività culturali. Evidentemente noi eravamo contrari perché era una soluzione che avevamo adottato, ma che avevamo adottato con cognizione di causa, per motivazioni concrete. Ricordo la discussione riguardante i sussidi per il gasolio indispensabili per l'attività agricola, perché sappiamo bene che questo settore, senza i sussidi, senza gli aiuti pubblici, non riuscirebbe ad andare avanti, anche perché è molto sensibile alla concorrenza sleale di Paesi che non hanno assolutamente le protezioni che garantisce invece il nostro. Voglio dire una cattiveria allora. Si dice spesso che chi non è particolarmente idoneo all'esercizio di un'attività è braccia rubata all'agricoltura. Quindi il mio timore sia che qualcuno della maggioranza non ha capito che quella è una battuta, pensa che veramente dovrà tornare a lavorare nel mondo dell'agricoltura e vuol distruggere questo settore perché è terrorizzato dal futuro che si prospetta. Andando però nel dettaglio di queste soluzioni, a mio avviso l'ideologia che ha motivato questo provvedimento si trova non solo nel testo del decreto, ma anche nel testo degli emendamenti presentati dal Governo. Voglio far riferimento in particolare al decreto all'emendamento 4.0.851 che dovrebbe introdurre la capitale verde d'Italia. Il nostro splendido territorio, la nostra nazione, come estensione territoriale non è molto grande, perché abbiamo circa 330 chilometri quadrati, ma è caratterizzata da una antropizzazione che ha fatto sì che comunque tutto il territorio sia abitato. E questo ha consentito, anche grazie alla salvaguardia determinata appunto dalla presenza umana nei vari territori, ha consentito le istituzioni di molti parchi, sia nazionali che regionali. Quindi evidentemente da questo punto di vista il nostro è un territorio di pregio. Quindi a che serve ora pensare alla capitale verde? Sempre per dire una cattiveria mi viene da credere che sia finalizzata a giustificare la presenza dei cinghiali a Roma. Istituiamo la capitale verde perché a Roma appunto abbiamo questo problema. Voglio entrare però adesso nel merito degli otto articoli che, come dicevo prima, contengono molto fumo ma poco arrosto, nonostante i tentativi della maggioranza di migliorare questo provvedimento. Tentativi che si sono scontrati contro un muro di scorrettezza perché addurre come motivazione contraria all'accettazione di alcuni dei nostri emendamenti. L'articolo 81, quando diversi di questi emendamenti non prevedevano nessuna necessità di copertura economica, evidentemente ha significato solo ed esclusivamente opporsi alla voglia di collaborare dell'opposizione per far sì che il provvedimento migliorasse nella sostanza. Entriamo un attimo nel merito degli articoli, iniziando dall'articolo 1. Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale. Allora qui mi viene da chiedermi di nuovo se si tratta di un provvedimento urgente per tamponare quindi una situazione di necessità oppure si tratta di pianificare una strategia nazionale. Perché se è la prima allora la decretazione sarebbe stata giustificata ma non c'è traccia qui delle misure necessarie. Se è la seconda non doveva essere argomento di decreto legge. Il clima è uno degli argomenti sensibili, uno dei temi sensibili su cui tutti dovremmo discutere, a prescindere dall'appartenenza politica. E questo non può avvenire se dobbiamo convertire un decreto che appunto tecnicamente ha i suoi tempi e le sue necessità. Andando avanti quindi nell'approfondimento di questo provvedimento voglio entrare subito nell'articolo 2 che a mio avviso contiene di nuovo questa contrapposizione ideologica. Il testo dell'articolo 2 è misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane e quindi si parla di programma sperimentale al comma 1, non se ne parla al comma 2 ma sostanzialmente ci si riferisce di nuovo a misure sperimentali. Allora quello che mi viene da chiedere è ma queste misure sperimentali quale fine hanno? Perché se avessero veramente il fine di migliorare la qualità dell'area nelle nostre città andrebbero a prevedere misure finalizzate a questo scopo. Se poi invece andiamo a verificare nella sostanza le conseguenze che determina questo provvedimento ci accorgiamo che di misure per il miglioramento della qualità dell'area in realtà invece non ce ne sono ma c'è tutt'altro. L'articolo 3, nello specifico, prevede che si possano finanziare dei progetti sperimentali per il trasporto scolastico. Qualunque persona di buon senso penserebbe che il fine è appunto quello di ridurre le emissioni inquinanti determinate da questi mezzi e il criterio da adottare sarebbe stato di conseguenza quello di intervenire a favore dei mezzi che hanno i tragitti più lunghi perché l'inquinamento determinato da un mezzo di trasporto non è in base al numero degli alunni trasportati come scrivete nell'articolo 3 ma in base al percorso, al tragitto percorso perché sappiamo benissimo che se uno scuolabus trasporta uno studente per 20 chilometri inquina molto di più di uno scuolabus che trasporta 20 studenti per un chilometro solo. Quindi il buon senso e la logica avrebbero determinato che il finanziamento sarebbe stato dato al mezzo che percorreva il percorso più lungo. Invece voi nell'articolo 3 scrivete che il criterio di emissione a finanziamento è il numero dei ragazzi trasportati. Ecco perché sostengo che qui si fa solo ideologia ma non ci sono misure concrete. Vedo però purtroppo che il mio tempo sta per scadere. Quindi confidando nella bravura dei miei colleghi per entrare nel merito voglio chiudere semplicemente con due accenni a due problematiche che mi stanno particolarmente a cuore. La prima contenuta nell'articolo 4, nello specifico la conclusione del quarto comma dell'articolo 4, prevede che si intervenga per prevenire il rischio idrogeologico laddove ritenuto necessario. A mio avviso la formulazione dell'articolo 4 fa sì che l'applicabilità di questo testo non sia limitata solo alle città metropolitane come in teoria dovrebbe essere, ma sia applicabile all'intero territorio nazionale. Questo mio sospetto è suffragato appunto dalla locuzione che ho poc'anzi letto che mi farebbe pensare che l'intento non sia quello di intervenire appunto per la forestazione nelle città metropolitane ma per adottare misure di prevenzione del rischio idrogeologico anche nelle altre aree del territorio. E siccome questo andrebbe a scontrarsi con un provvedimento, con un disegno di legge già presentato dalla Lega che prevede invece la pulizia degli alvei nelle zone più a rischio, spero che questo mio sospetto venga fugato e che il Governo chiarisca che l'applicabilità di questo decreto non riguarda appunto le zone montane. L'ultima considerazione e chiudo, vorrei capire quale obiettivo si intende perseguire con l'emendamento 5.0.850 del Governo che prevede la reintroduzione dei caschi verdi per l'ambiente. Io ricordo a tutti che noi i caschi verdi per l'ambiente li avevamo già, si chiamava Corpo Forestale dello Stato che è stato soppresso. Allora vorrei capire adesso, i colleghi del PD si sono pentiti di quel provvedimento che appunto sopprimeva il Corpo Forestale dello Stato e magari stimolati dal Ministro che invece ne dovrebbe avere un'approfondita conoscenza vogliono reintrodurre quelli? Oppure si introduce una figura nuova come nella sostanza sarà? Perché se è questo l'obiettivo allora torniamo a discutere di quella riforma scellerata perché comunque un corpo che poteva soddisfare queste esigenze con capacità, esperienza e competenza lo avevamo già e lo abbiamo ancora nelle professionalità che avevano acquisite. Quindi non facciamo misure a punto specchietto per la lodole come evidentemente è questa e cerchiamo di ragionare seriamente su una riforma strutturale dello Stato. Grazie.